Oh come adoro io pattinare! Voi pure? Mamma mia! Ma si è brutto! Ma io me la vizia! Sì però... Attenzione, perché c'è una cosa importante prima di darci al patinaggio sfrenato! E cioè oggi vi devo presentare un nuovo gioco per PC, console mobile, che si chiama Zenless Zone Zero! Ed è un gioco bellissimo ragazzi! Appena lo vedrete, vi innamorerete subito! La cosa più bella è che in questo gioco c'è un disastro naturale chiamato Hollows, che ha risvegliato una nuova città, New Eridu! E questa città è... E nella città è Lion! Potete esplorare tutti i piccoli e visitare i negozi più affascinanti! Sì è città questa città! Come ad esempio il Bar di Gnido, un negozio di musica gestito da Elfie, dove potete essere potenti artefatti per i tuoi personaggi! Che meraviglia! Oppure c'è il Goldfinger Arcade, che è una sala giochi gestita da Asha, dove potrai giocare a due unici arcade! Soul Hounds 3 e Snake Duel! Mi sto già innamorando di questa Asha ragazzi, è pazzesco! Fratello! E potrai giocare con tre personaggi, lo sai! Davvero! È passato da Billy Cyborg a Coletta Belovog! Mamma mia! È bellissimo il suo nome e il martello! Preparati a scendere in campo con mosse di combattimento veloci a colpi di musica che creeranno un'esperienza emozionante! Adrenalinica! La scarica di adrenalina! Lo sapevo infatti! Potrai anche imparare nuovi combo uniche in base al tuo stile di gioco! Mescolando attacchi base ad attacchi caricati! Oppure una bella schivata all'auto ultimate! che creeranno delle grafiche di battaglia entusiasmanti! Ma scesso! Io sono tutto entusiasmato ragazzi! Ci voglio giocare adesso! Allora, link in descrizione per scaricare Zenless Zone Zero subito ragazzi! Mi raccomando, fatelo immediatamente perché secondo me, avete visto come tutti abbiamo ingriccati, deve essere un gioco che merita seriamente la nostra attenzione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!